Sono stati tutti approvati gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale svolto se ieri sera ad Andria tiene la maggioranza di centrodestra per un'assise corposa in cui diversi sono stati i temi affrontati e di provvedimenti licenziati sempre a maggioranza ampia con 29 voti a favore l'astensione dei consiglieri di PD ed Emiliano per la Puglia quella che ha dato il via libera alla variante allo strumento urbanistico per la realizzazione dell'ampliamento di un insediamento produttivo sulla SP Andreatrani e proposto dall'azienda casearia Sanguedolce provvedimento lo ricordiamo che nello scorso Consiglio determinò lo scioglimento della stessa assise approvate a maggioranza questa volta con 23 voti favorevoli anche due modifiche al regolamento di accesso alla ZTL del centro storico con il rilascio gratuito del pass non più dunque con un costo totale di 26 euro ai residenti e commercianti che dovessero farne richiesta modifiche che consentiranno anche agli esercenti di parcheggiare la loro auto fino a tarda notte per ragioni di sicurezza 22 i voti favorevoli con 7 astenuti per il via libera alla costituzione dell'associazione distretto urbano del commercio di Andrea un organismo autonomo atteso da molto tempo in città e previsto dal regolamento regionale approvato nel 2011 spazio poi all'approvazione delle aliquote relative a tributi e tasse comunali anche se la maggioranza qui ha verificato una tenuta molto più esigua in termini numerici 17 infatti i voti favorevoli per ogni provvedimento con il voto contrario del Movimento 5 Stelle e la non partecipazione al voto del centro-sinistra a partire dal piano finanziario e dalle tariffe per il 2019 della tassa rifiuti latari con scadenze delle rate al 16 maggio 16 luglio e 16 novembre 2019 confermate anche le aliquote 2018 dell'imposta municipale propria per l'esercizio 2019 con le abitazioni principali esenti ed altri immobili all'8,6 per mille l'addizionale comunale IRPEF per il 2019 resta invariata rispetto al 2018 ovvero allo 0,8 per cento con fascia di esenzione pari a 7.500 euro per la tasi aliquota sempre al 2 per mille per gli immobili di abitazione principali e all'1 per mille per i fabbricati rurali strumentali in chiusura anche spazio al prezzo di cessione delle aree previste nel piano per gli insediamenti produttivi ed aggiornato anche il prezzo di cessione delle aree previste nel piano di zona 167 nord tutti i provvedimenti propedeutici alla redazione del bilancio altro nodo importante visto anche il piano di riequilibrio che dovrà verificare l'eventuale tenuta della maggioranza a supporto di Nicola Giorgino